Ancora Germania, il team che gli chiama, il numero 3 Playfold, l'autore del momentaneo pareggio. Ancora Gran Bretagna in avanti, grande soft del numero 4, No-Tort. Playfold. Dal bordo del campo gli dicono di controllare la palla, controllare l'azione. Perché è in atto una sostituzione, rientra Harvey Birch, che riceve subito palla. Harvey Birch, McCutcheon, Playfold. Davvero McCutcheon, Low-Cort, Low-Cort sul lato destro, McCutcheon, attenzione, Fino, stoppato dal collega tedesco. Tiro d'angolo Gran Bretagna, fatica equilibratissima, ritmi serrati. Tutte e due la vogliono portare a casa. Tiro con l'altro Gran Bretagna. Dei fogli. Dov'altro. Buon lavoro. Grazie.